Musica Oggi abbiamo detto che è la giornata internazionale dell'eliminazione della discriminazione fraziale, ponte ONU ma è anche la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per questo motivo probabilmente è una buona cosa segnarsi sul calendario una prossima uscita o comunque avere già le orecchie attivate e avere nelle orecchie The Good Mothers noi l'abbiamo visto in anteprima, le prime due puntate arriverà in Italia 5 aprile esattamente su Disney Plus il 5 aprile The Good Mothers forse vi ricorderà The Good Fathers certo senza la S Le Madrine, I Padrini è un po' questo il gioco di parole della serie che è stata tra l'altro presentata in Pompamagna ma anche con grande successo al Festival di Berlino dove ha vinto il Berlinale Series Award la miglior serie sì esatto ed è un progetto molto italiano ma che respira di internazionale il cast è veramente interessante anche l'approccio per la regia di Julian Gerald e Elisa Moruso che forse ricorderete per vari biopic, vari documentari in particolare quello su Chiara Ferragni però insomma mi pare anche altri quello che mi è venuto in mente subito diciamo che è una donna che è abituata a raccontare le donne e in questo caso lo spunto è uno spunto di storia vera perché è diciamo ripercorre le vicende di Denise figlia di Leo Garofalo Maria Concetta Cacciola forse e Giuseppina Pesce che sono tre donne che si sono contrapposte all'andrangheta supportate dalla PM Anna Colace che ha avuto l'intuizione di poter diciamo combattere i grandi andrangheta attraverso le donne cioè puntando sulle donne che è un punto di vista sempre interessante e che è a volte poco battuto perché le donne hanno da un certo punto di vista un ruolo importante soprattutto di organizzazione di sostegno della rete ma possono anche essere coloro che rovesciano un potere così maschile come è quello della mafia sì 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 il punto di vista è molto interessante è anche strano dire particolarmente originale proprio perché è veramente molto strutturale l'importanza delle donne delle personaggi e delle donne appunto all'interno dell'organizzazione criminale e mafiosa proprio perché fa parte della famiglia letteralmente il invece un pochino più farraginoso è l'approccio di queste due puntate ci hanno convinto un pochino a metà perché sicuramente la forma respira di internazionale l'intento e anche quello che vediamo è sicuramente qualcosa che non abbiamo visto molto frequentemente sui nostri schermi gli schermi locali italiani soltanto che il racconto viene un pochino troppo dilatato un po' troppo smagliato anche se di grande interesse quindi comunque ci stai dentro vuoi andare avanti però finisci forse il ritmo era da accelerare da mantenere un po' più alto non vorrei assolutamente consigliare l'approccio di Prince Faster di vedere le cose con l'avanti veloce diciamo che poi il tutto è supportato da un cast che regge la situazione c'è Gaia Girace che abbiamo visto è l'amica geniale c'è Michela Ramazzotti Valentina Bellesimo la Di Stefano Barbara Chichiarelli che fa l'APM con lei che offre un punto di vista diverso e su quello si innesca tutta la storia tra l'altro Michela Ramazzotti e Gaia Girace sono le protagoniste o comunque coloro che abbiamo visto di più nelle prime due puntate Michela Ramazzotti fa l'Ea Garofalo che ha testimoniato contro Carlo Cosco che è appunto il boss e il marito e per potersi liberare da questo gioco con la propria figlia che è appunto Denise che è Gaia Girace quindi diciamo il tentativo di uscire da un sistema che non si condivide che oltretutto è anche molto difficile da vivere come donna perché appunto sappiamo è un potere estremamente maschile molto gerarchico dove le donne hanno sì un ruolo importante però comunque un ruolo comprimario sono sempre proprietà ecco non so come dire non ho un modo diverso per dire questa cosa sono sempre degli oggetti fondamentalmente delle proprietà che poi ecco magari in alcuni casi possono avere anche molto potere non dico di no possono anche esserci effettivamente dei legami emotivi ricordo un libro che ho letto di recente che racconta invece una grande storia d'amore se non sbaglio era Leoluca Bagarella con la moglie che poi si è uccisa insomma era una storia anche emotivamente appassionante però certo si tratta sempre in quel caso per esempio di una donna che ha vissuto totalmente staccata dal resto del mondo in latitanza insieme al marito tornando al livello alla qualità la recensione pure è semplice dobbiamo però tenere sott'occhio e anche elogiare Valentina Bellè che con un'interpretazione in calabrese stretto è veramente sopra gli standard per un'attrice di Verona e la credibilità di questa interpretazione è veramente da sottolineare il tutto appunto poi anche se avete visto qualcosa di più nella filmografia di ogni interprete e attrice è giovane del 92 la Bellè sì 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 quindi veramente molto bene molto buono se però appunto siete appassionati del genere potreste incappare in una sorta di effetto multiverso perché la PM Anna Colace è interpretata da una delle personaggi principali di Suburra la serie interpretata da Barbara Chichiarelli Denise Cosco interpretata da Gaia Gerace vi ricorderà qualcosa che avete visto appunto in un'altra serie un'amica geniale un'amica geniale Michela Ramazzotti pure diciamo che si è pescato nel mondo della buona attorialità italiana femminile di questo momento anche secondo me non a caso anche su dei volti che sono hanno un respiro internazionale cioè voglio dire la Girace penso sia come volto molto conosciuta no? sì 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 per tutti coloro che vedono l'amica geniale che conoscono la Ferrante che sappiamo essere al momento il prodotto culturale italiano più famoso al mondo credo ed è uno dei driver sicuramente dei motori di questo The Good Mothers il prodotto è un prodotto wild side house production quindi veramente una coproduzione internazionale a tutti gli effetti il lancio a Berlino sostiene ancora di più questo intento abbiamo visto due puntate quindi la recensione è parziale da questo punto di vista ce ne stanno altre quindi forse è un saremo molto felici di ricevere delle smentite dalle prossime dalle prossime puntate intanto quello che vi abbiamo detto è sicuramente una serie di aspetti che vengono tenere alta l'attenzione sono totalmente sei episodi disponibili tutti al lancio il primo il 5 aprile quindi tenete d'occhio Disney Plus se volete se volete abbonatevi se vi interessa particolarmente questo prodotto comunque in generale ci sono dei prodotti interessanti su Disney Plus mi sentirei di consigliarla comunque se potete fatelo grazie a tutti Grazie a tutti.